Bene ragazzi qui Erone bentornati eccoci qui con questo nuovo video sono qui oggi con voi con un nuovo live siamo tornati su Black Ops 2 ma oggi voglio proporvi un live un po' particolare è un qualcosa che ho pensato settimana scorsa una cosa che vi ho detto può essere un'idea carina la facciamo poi oggi ve lo faccio vedere come episodio singolo se poi vi piacerà particolarmente probabilmente potrebbe diventare anche una serie quindi vi spiego subito cosa andremo a fare oggi oggi farò un tipo live a obiettivi ovvero in questo live io mi proporrò di fare tipo 10 obiettivi che adesso tra pochissimo vi farò vedere in sovraimpressione e vi elencherò e durante la partita dovrò cercare di fare il maggior numero di questi obiettivi per poi vedere insomma alla fine della partita quanti di questi sono riusciti a fare in modo che comunque durante la partita c'è sempre qualcosa di diverso da fare tante cose a cui pensare e viene un pochettino più movimentato e divertente da vedere quindi le cose che andremo a fare oggi sono queste ottieni una medaglia sanguinaria con la N94 ottieni una medaglia sanguinaria con il PDV fai 3 kill con il C4 uccidi 3 nemici ferendoli prima con la primaria e poi uccidendoli con la secondaria uccidi 5 nemici con armi raccolte da terra fai una triple feed fai almeno 30 kill non saltare per tutto il primo round di dominio non abbassarti per tutto il secondo round di dominio e fai almeno 4000 punti questi qua sono tutti gli obiettivi della giornata che ovviamente sarà giocata la partita su un dominio vedremo cosa riuscirò a fare durante la partita e poi alla fine tireremo un po' le somme di come è andato questo episodio quindi buona visione ragazzi e a presto eccoci qui ragazzi ho trovato la lobby ce l'ho fatto dopo un'eternità perchè continuavo ad entrare in partita già iniziata e non riuscivo mai a trovare una dall'inizio prima iniziamo con questa che è slums che comunque è una delle mie mappe preferite e quindi è anche bella da poter fare questi è piccolina, è un po' contenuta quindi possiamo riuscire a fare al meglio questo tipo di video poi cosa devo dirvi? niente, tutti gli obiettivi che ho fatto vedere prima non sono da fare in ordine ma basta che alla fine del video poi vediamo quanti sono giusti a farne tireremo un po' le somme e vedremo spero di farne almeno un 6 diciamo 6 su 10 come è tipo la sufficienza alle superiori una roba del genere comunque per iniziare io non posso saltare per tutto il primo round primo obiettivo che voglio riuscire a raggiungere che sarà uno dei più difficili perchè l'abitudine mi fa venire da saltare e poi cerchiamo di fare non ce la farò mai se stanno lì dietro così ok no ero io che ero dietro cerchiamo di fare il sanguinario prima con la N poi col PDV e poi appena ci togliamo questi qua dalle scatole vediamo di riuscire a fare qualcos'altro intanto dovrei dare una mano anche alla squadra a prendere le bandiere dato che qua le prendono i nemici e fare qualche punto perchè comunque devo fare anche 4000 punti c'è un macello di roba da pensare quindi 1 2 ok 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 qualcuno che venga su B ragazzi qua devo fare anche 3 kill con il C4 ok una l'ho fatta vieni qua te bastardo no 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 aia 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 non mi stai vedendo cosa c'ha già l'elicottero come cazzo fa aver già l'elicottero il drone porca dai ma come cazzo fa iniziare così una partita oh zio no non puoi non puoi cazzo non puoi dai cazzo dai anche questo qua il ragazzi voglio bene veramente erano due settimane che non giocavo a code perchè c'è l'estate tutto quanto ma io li voglio sto zitto taccio perchè non si può vedere una cosa del genere non puoi dove l'ha trovato gli approvvigionamenti per forza qualcuno lo tiri giù oh cristo cazzo io non mollo comunque ragazzi sapete che le partite si fanno fino alla fine in un modo o nell'altro cerchiamo di recuperare qualcosa qua eh porca troia dai allora b dove cazzo stavi camperando te hai ogni volta un angolo diverso eh minchione allora sì 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 facciamo così ho una kill dici quattro in più da fare ok vabbè fa niente uav noi li aspettiamo qua questo ok arriva da lì sanguinario l'abbiamo fatto no ancora ci no da fare l'ultima mi sa dai l'ultima c'è sanguinario o forse l'ho già fatto probabilmente vabbè o non so contare fino a 5 vabbè ragazzi io penso di averlo fatto 5 di fila dai dai appena moriamo cambiamo prendiamo il pdv adesso ci ma oddio quando stavo giocando no 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 dai l'avevo preso prima vai di pdv ok manca sanguinario col pdv poi possiamo andare a fare le altre ah perlomeno stiamo recuperando un pochettino sono andati via gli elicotteri io comunque non sto saltando ancora comunque ragazzi per il primo episodio l'ho scelta io le cose da fare cose molto semplici poi per i prossimi ci saranno dei prossimi episodi perché io non l'ho fatta come serie questo l'ho fatto come episodio singolo se poi vi può piacere particolarmente come cosa oddio che rischio se vi può piacere particolarmente come cosa potrei farla diventare una serie non lo so vediamo e magari nei prossimi potreste essere voi a consigliare gli obiettivi da fare durante un live un po' per rendere insomma la cosa più vivace qua io ho paura che me ne mancano poche porca puttana me ne mancano pochissime uno sta coprendo dietro io intanto tiro su questa per sicurezza qua c'è ancora mmm bastardi facciamo così allora vengo a trovarti da qua facciamo il giro 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 veloce 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 da che pa io vi sto scendere uno ecco sanguinario bella abbiamo fatto sanguinario anche con questa dai 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 mancano 30 secondi si tiriamo che cazzo me ne frega l'uav ok ah stai giù bastardo vabbè fa niente quindi posso cambiare arma adesso perché tanto le ho già fatte quelle ah no mi mancherebbe una col c4 porca è vero dopo devo ricambiare arma appena ricomincia il round qua ma devo ferirli e uccidirli con la secondaria o raccogliere armi da terra quindi secondo round ci mettiamo di impegno a fare quello ok dai ce l'abbiamo fatta non saltare per il primo round manca vabbè la triple feed la vedo dura perché è tutta questione di fortuna di trovare nemici vicini quindi quella la lasciamo un attimo da parte devo raccogliere l'arma da terra e fare almeno 5 kill con quella o con qualsiasi arma raccolta da terra una kill col c4 mi manca se non ho sbagliato a contarle qua c'è un ragazzino che sta parlando quindi aspetta mettiamo un attimo la n così ho la secondaria e poi sarebbe da fare tre nemici con ferendoli con con la primaria e uccidirli con la secondaria queste qua anche qua è un po' a random non è che posso stare lì con uno di fronte a me che mi guarda ferirlo e poi sparargli però comunque vediamo cosa riusciamo a fare già un pochettino se riesco a non abbassarmi per tutto un round abbiamo già fatto abbastanza cioè un buon numero di obiettivi le 30 kill potrei riuscire a pigliarle allora il c4 glielo metto qua quello dai sì ciao non l'ho preso ma vaffanculo stai campionando lì vabbè io mi sposto da qua raccogli l'arma ok uno due il terzo ragazzi poi magari non me ne accorgo vaffanculo due ne ho fatte magari di numeri cose vale quante chi l'ho fatto non me ne accorgo poi alla fine quando mi riguardo il video lo monterò ci sarà un bel lavoro di montaggio dietro vediamo un po' cosa riesco a fare anche se sbaglio magari salto in un momento non me ne accorgo durante il live o queste cose qua me ne accorgerò spero quando riguardo tutto quanto farò una cosa precisa comunque mancano tre kill con un'arma raccolta da terra vediamo tipo se te lo lancio lì intanto il c4 no non l'ho fatto il c4 allora vediamo b intanto per qualche punto in più preso saltare posso ok u2 dai l'ultimo lì stronzo vieni qua no non l'ho preso in tempo dai 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 sì dovrei aver fatto anche questa qua anche le 5 qua ma ci sono da ferire con la primaria uccidere con la secondaria c'è anche una kill di c4 che ho già tirato porca troia uccisione conquista facciamo i gran punti mega punti per lui volevo cambiare la secondaria ma non l'ho fatto in tempo abbiamo il visat oddio grande allora qua secondaria non faccio in tempo se ciao bello c4 del cazzo ok ok uno uno l'ho fatto uno ce l'ho fatta a ferirle poi uccidere la secondaria dai dai scusate se sto zitto ragazzi sono concentrato devo riuscire a fare tutto quanto penso di essermi abbassato qualche volta probabilmente non lo so vediamo qua se riusciamo a fare tipo hop 2 ok siamo 10 di fila intanto manca l'ultimo cambia no triple feed ho fatto anche la triple feed oddio aspetta oddio ho fatto la triple feed raga incredibile aspetta dai che ti finisco con questa no ho fatto anche la triple feed incredibile ragazzi cosa cazzo manca io ce l'ho le 30 kill oh abbiamo quasi fatto tutto manca il cambio incredibile mi sarò abbassato almeno una volta per aver rovinato qualcosa non posso aver riuscito aver fatto tutto quanto aspetta eh ah una kick col c4 forse manca manca una kick col c4 è vero mi sa che non lo faccio in tempo a fare perchè devo morire prima non prendere la bandiera dai cazzo dov'è devo ferirne uno e ucciderlo con la secondaria non ce la farò mai ah qua no bastardo di qua di qua di qua da cimitero vieni a cimitero vieni a cimitero allora dove cazzo sono finiti i nemici dai siete in 5 porca Eva aia no no cristo l'avevo quasi ero quasi sicuro di averlo preso porca Eva abbiamo niente abbiamo pochissimo tempo per provare a questa almeno se no il c4 un colpo di c4 vediamo su c se c'è qualcuno no è morto quello si anche la kick con il c4 dai facciamo l'ultima no perchè sei morto con un colpo eri già ferito preso dimmi che è lo stesso poi dopo vedrò il nome ragazzi se è lo stesso l'abbiamo fatte tutte se è lo stesso l'abbiamo fatte tutte quasi spero oddio dai 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 ah finita ole ragazzi adesso non so quante ne ho fatte comunque vai 4000 punti le abbiamo fatti le 30 kg le abbiamo fatte durante il live penso di aver fatto forse magari mi sono abbassato per sbaglio qualche volta devo controllare poi un po' di cose ve le farò vedere con l'editing a fine video con calma apparirà la schermata adesso ci impiegherò un pochettino con calma comunque ragazzi è stato un live diverso dal solito non so da che parte mi escono queste idee però io mi sono divertito un sacco spero che anche a voi vi piaccia come cosa fatemi sapere se magari può diventare una serie o magari può essere riproposto in un futuro e se nel caso verrà riproposto in futuro potreste essere voi a scrivervi magari delle cose semplici non complessissime complessissime troppo difficili insomma da mettere nei prossimi episodi io vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare se vi è piaciuto il video insomma in generale niente ci vediamo presto ragazzi adesso compatibilmente con l'estate perché è sempre un casino però ci vediamo presto ragazzi qui è Aron grazie di tutto e alla prossima bella ciao ciao